Sei sicura? Sì, sarà un'avventura. Il primo uomo sulla Luna? Sarebbe incredibile. Abbiamo scelto un compito talmente difficile che richiederà tantissime innovazioni tecnologiche. Dovremo ricominciare da zero. Qualcosa non va? C'è un problema? Quando avremo imparato a destreggiarci, penseremo ad andare sulla Luna. Neil, se questo volo sarà un successo, passerà alla storia. Che tipo di idea vi siete fatti? Ci aspettiamo che il volo sia un successo. Certo che è impressionante. Salterà in aria come una bomba da mezzo chilotone se dovesse esplodere. Il vettore non è sicuro. Dobbiamo fallire qua giù, per non fallire lassù. Non è un viaggio come gli altri. Non è come andare al lavoro. Pensi che ritornerai? Ci sono dei rischi, ma abbiamo tutte le intenzioni di tornare. Avete un coltellino svizzero? Coltellino svizzero? Scherzi! Ci siamo! Sei... Cinque... Quattro... Tre... Due... Ritenete che ne valga il costo? In soldi e in vite? Quando guardiamo il cielo da qui, non ce ne rendiamo conto, ma l'esplorazione dello spazio ti cambia il punto di vista. Ci permette di vedere cose che avremmo dovuto vedere tempo fa. Abbiamo un problema serio! È tutto sotto controllo. Siete solo dei ragazzi, non avete niente sotto controllo.